ben trovate e ben trovati sono contento di essere ancora con voi oggi parliamo di strada e fotografia di un punto di contatto tra foto e strada e vorrei dare una versione nobilitante della fotografia nella strada io sono roberto carlone e vi ricordo che vi potete iscrivere al canale youtube cliccando qui sotto oppure anche mettere un mi piace questo ci permetterà di restare in contatto e così sarete avvisati sul prossimo evento e la stessa cosa ovviamente anche su facebook cominciamo primo questa settimana abbiamo ripreso a viaggiare grazie all'abbattimento delle barriere dei viaggi abbiamo ripreso a fare spettacoli quindi a viaggiare viaggiare dunque strada secondo per ripulire a fondo la libreria del corridoio ho spostato tutti i libri per bene e ne ho approfittato per rimetterli in ordine alfabetico alla lettera l è spuntato questo libro la strada di jack london ed è scivolato fuori un biglietto del treno del 78 che usavo come segnalibro di nuovo la strada terzo è purtroppo morta una persona importante per un gruppo di altre persone che seguivo da parecchi anni su instagram e questo il terzo richiamo alla strada ma di lei di misti e la strada ve ne parlerò tra pochissimo leggo mi capita mi capita ogni tanto di imbattermi in brevi profili della mia vita dove in frasi eleganti trovo scritto che era per studiare sociologia che divenni vagabondo questo è un pensiero molto gentile ma non è esatto io divenni un vagabondo beh a causa del tipo di vita che era dentro di me della smagna di andare in giro che avevo nel sangue e non mi dava pace me ne andai per la strada perché non riuscivo a starne lontano perché non avevo nei jeans abbastanza soldi per pagarmi i viaggi in treno perché ero fatto in modo tale che non ce la facevo a lavorare tutta la vita sempre allo stesso turno perché beh perché era più facile farlo che non farlo ecco un poco avete già capito da che parte sto per fotografare nella strada bisogna essere della strada ma vi vorrei leggere ancora un altro punto interessante sempre di jack london la strada lo cerco e ci siamo picchiai delicatamente e quando vedi il viso gentile della donna di mezza età che mi aprì mi venne in mente come per ispirazione la storia che dovevo raccontare sappiate infatti che è dalla sua abilità a raccontare una buona storia che dipende la buona riuscita del mendicante come prima cosa e all'istante il mendicante deve squadrare la sua vittima subito dopo deve raccontare una storia che sattagli alla particolare personalità e temperamento di quella certa vittima ed è proprio qui che nasce la difficoltà maggiore nello stesso istante in cui misura la vittima deve iniziare la storia non è concesso un solo minuto di preparazione come in un lampo deve indovinare la natura della vittima ed inventare un racconto che faccia colpo il vagabondo che ha successo deve essere un artista deve creare spontaneamente e distantaneamente e non su di un tema scelto dalla ricchezza della propria immaginazione ma sul tema che legge in viso alla persona che apre la porta sia questa uomo donna o bambino amabile o iraconda generosa o tirchia espansiva o attaccabrighe ebrea o gentile nera o bianca razzista o fraterna provinciale o universale o qualunque altra cosa possa essere questo jack london e capite subito da che parte sto per parlare della strada bisogna essere della strada la fotografia della strada è questo oppure questo isis oppure ancora questo è vero c'è tutto questo nella strada a me piacciono tutte ma preferisco quello che vi presento almeno oggi ed è a questo punto che vi dico di misti 28 anni e dice ho incontrato la mia mamma naturale quando avevo 18 anni e me ne sono pentita il mio padre naturale non vuole avere niente a che fare con me ho trovato una famiglia in affidamento ma non mi hanno adottata questo è uno schifo ma è quello che è non vado avanti questo è quello che dice lei e guardate i suoi occhi e che sguardo chi ha fatto queste foto è jordan bird in che immagino ascolterà indifferita da san diego california e ne approfittiamo per salutarlo lui eccolo qua è un fotografo eccezionale e si è inventato una cosa bellissima a un certo punto della sua vita dopo aver fotografato tantissime persone nei suoi viaggi molto avventurosi interessanti e intensi ha reso tutto più utile ha preso un camioncino e l'ha trasformato in doccia ed ha cominciato a coinvolgere senza tetto offrendo loro questo servizio va dai senza tetto e offre loro una doccia qua vedete le fasi della costruzione per trasformare il furgoncino e questo all'interno non è una bellissima foto ma si intuisce non è semplicemente una cosa fredda e asettica ma guardate ci mette anche il comodino per dargli questo questo senso di casa ma andiamo a a incontrare le persone perché lui è un fotografo un fotografo splendido guardiamole insieme vedete il il set è minimale le foto sono potentissime le persone ancora di più meravigliose sono veramente ognuna una storia una vita ogni foto ci dice che cosa c'è dietro io ci vedo coraggio intensità vita e strada lui ancora ci dice che le fotografie sono dei ponti e queste secondo me sono fotografie necessarie ancora ci dice che ogni foto è uno scambio adesso l'attività è cresciuta e offrono circa 150 docce quotidiane avete capito no di che cosa si tratta lui va in giro per i quartieri avvisa anche prima e fa sapere ai senza tetto che domani ci sarà il pulmino che permetterà a tutti di fare una doccia e si sono aggiunti dei camion nuovi in più ci c'è un taglio di capelli c'è tutta un'attenzione all'igiene c'è sicuramente distribuzione di cibo e vestiti e l'associazione è diventata veramente grande e naturalmente quello che dispensa oltre a tutto questo è molta molta umanità e soprattutto relazioni questo che vedete e ted eccolo qua senza tetto da 15 anni mi sembra sia stato meccanico dell'air force e poi anche stato meccanico alla bmw e spera di spera di essere di nuovo in un'officina meccanica e qui lo vedete dopo doccia barba e capelli ma poi soprattutto ci sono brett e danny che sono stati i primi in assoluto guardate questo è brett eccolo e questo è danny qui li vedete li vedete arrivare in un filmato li fa entrare da soli e questa è già una cosa splendida e poi li fa uscire e eccoli ecco che esce tutto docciato e splendido e felice soprattutto brett ha continuato a sviluppare ha contribuito tantissimo sviluppare l'associazione e ha detto che dopo la doccia si sentiva più umano allora parole di jordan abbiamo deciso di chiamarla humanity showers è una cosa un po' intraducibile forse no perché sono docce dell'umanità docce per l'umanità è abbastanza intraducibile ma penso che che capiate il significato qui li vedete ve li faccio rivedere prima e dopo prima e dopo splendidi viene voglia di essere di essere lì ma guardiamo ancora con un filmato che cosa succede il taglio di capelli e qui vedete già il rapporto l'umanità che c'è voilà e voilà e notate il sorriso contento si guarda inizia a commuoversi e qui c'è la massima commozione io ogni volta che che guardo queste immagini forti fortissimi capisco che ecco mi si apre il cuore perché la fotografia è utile la fotografia quello che ci dice alla fine oltre alle tantissime cose che possiamo pensare tutti e che la fotografia anche se solo fatta per se stessi richiede veramente impegno e qui c'è una unità tra l'idea tra il mettersi in gioco tra il creare un'utilità sociale fondamentale tra il creare creare relazione c'è anche questa bellezza di fare queste foto che a mio avviso sono tra le più belle tra i ritratti veramente più belli che abbia mai abbia mai visto insomma così così mi piace mi piace condividere la fotografia nella strada a questo punto non vi parlerò dei grandissimi fotografi di strada dei dei reporter di meier o vizzo della battaglia che tutti possiamo andare a cercare a scoprire di tutti conosciamo né tantomeno io vi parlerò della schiera dei fotografi che vanno a zonzo inventati forse più che altro dai costruttori di macchine fotografiche dai commercianti e come un trucco commerciale no per vendere di più nel senso che il mio è semplicemente un richiamare ad impegnarsi di più ad integrarsi nella strada a vivere la strada nella strada questo mi sembra che valga veramente la pena ma continuiamo sulla sulla mia strada e sulla nostra strada e vediamo chi vorrei farvi incontrare e sempre su questa idea di fotografia necessaria ed intensa passiamo a mary ellen mark che è affamata di mondo che è interessata soprattutto a coloro che vivevano ai margini lei è passata dalle proteste sul vietnam ai movimenti femministi oppure a quelli anche omosessuali lei dice sono interessata alle persone borderline provo affinità con coloro che non hanno sfondato nella nostra società quello che voglio fare più di ogni altra cosa è riconoscere la loro esistenza vedete niente pietismo niente censura niente urlare o spiattellare scandali tantomeno esagerare la diversità se non per includere diritti e diritto alla personalità questa foto la dice lunga e la dice lunga su quanto lei sia coinvolta nella strada anche questa è un poco più leggera forse però è una foto incontrata mi sembra di capire su una spiaggia o in riva un fiume questa sicuramente un reduce dal vietnam o forse è una foto del vietnam va bene il confine è molto è molto labile lei faceva la reporter ma questa è una foto nella strada questa definizione mi sta piacendo tanto la fotografia non è la street photography ma è la foto nella strada qua vediamo un'altra foto e si capisce quanto lei fosse nella strada pure questa guardiamo anche il taglio l'attenzione molto particolare non voglio esagerare con tantissimi commenti e poi c'è sempre nella strada una persona di cui è impossibile non parlare si tratta di Robert Frank gli americani the americans lui nasce come fotografo di moda e grazie a questo essere fotografo di moda raggiunge fama e conoscenza a un certo punto però abbandona tutto questo coraggioso no anche lui diventa amico di jack kerouac e con lui parte per un viaggio on the road e questo ci tengo a dirlo si dice veramente poco o non tutti ce l'hanno presente vi faccio vedere una foto questo è il percorso che lui ha fatto on the road diciamo che non è che non è che va a farsi una passeggiata il sabato per il corso ma è qualche cosa di più vedete quanti chilometri ha macinato vi faccio vedere soltanto tre foto semplici dirette molto interessanti giusto per parlare di lui questi sono lavoratori delle miniere direi è una persona che veramente la strada la conosce anche questo qui vediamo anche tutto un una particolarità della fotografia la protagonista bellissima meravigliosa è sfocata e chi è in fuoco e chi è a fuoco e soprattutto la gente dietro i lavoratori le persone casuali le persone che ammirano questa persona è un modo di essere nella strada da una certa parte e lui come dicevo prima è stato fotografo di moda e questa è un'altra le realtà forti e importanti bisogna andarsene a cercare oltre che conoscerle bene tornerei per chiudere con un altro grandissimo fotografo a questo punto italiano e lui è ed è l'omaggio che faccio è Tanno D'Amico è una persona anche lui fondamentale importantissima ve lo presento eccolo qua Tanno D'Amico al solito presento delle foto un po' insolite un po' coerettiche no? ma penso che se lui la se l'è fatta scattare gli piaccia decisamente è una persona che è sempre è sempre stata sempre sarà in prima linea il suo è come il diario di un'esperienza in cui racconta cosa significa e cosa comporta il legame tra la fotografia e la testimonianza lui stesso scrivendo con le immagini partecipa con tutto se stesso agli eventi a cui assiste e ne conserva la memoria che poi rende pubblica attraverso la fotografia vi faccio vedere anche qui pochissime foto ma fondamentali la prima iper conosciuta bellissima come fotografia la ragazza in mezzo ai carabinieri e lui era in mezzo a dove succedeva tutto quanto a dove succedevano le cose quest'altra vedete firmata da lui bambini ribelliamoci anche questa la dice la dice lunga su un periodo sicuramente però è lì è nel vivo della storia lui è nella strada anche lui è nella strada per la strada questa è vero è un'Italia che che un poco scompare ma inviterei tutti quanti andare a cercare dove qualcosa sta cambiando dove qualcosa incomincia a detter legge incomincia a insinuarsi incomincia soprattutto a vivere perché la strada è vita qua vediamo questi ragazzini mi piacerebbe trovare non la coppia non una fotocopia di queste di queste fotografie ma mi piacerebbe tantissimo trovare una corrispondenza con una realtà che sia così viva e così presente perché queste fotografie le ricordo io erano fotografie che erano molto simili in tutta in tutta l'Italia sicuramente e si sta parlando di anni 70 mica tanto tanto tempo fa questa è un'altra sempre di bambini splendida anche questa bambini che stanno giocando bambini che sono tutti spinti verso qualcos'altro che guardano altrove e anche qui non c'è non c'è compiacimento anche qui vediamo tutti l'intensità di questa fotografia e soprattutto di accettare questo fotografo e il fotografo è in mezzo a loro ed è con loro Tano D'Amico bella la strada no? e quindi lo ripeto per l'ennesima volta scusate bisogna essere della strada per essere nella strada ma vorrei chiudere con la mia preferita di sempre Vivian Mayer vi faccio vedere una sola foto che è poetica che è sognante e secondo me permettetemi di dirlo è impressionantemente empatica per me questa è una foto d'amore Vivian Mayer sempre nella strada per la strada e con la strada bene vi saluto e vi vorrei anche ricordare che la terza foto iniziale dove quasi parlo male dei fotografi di strada è mia quindi voglio dire che sarà anche carina ma assolutamente non serve a niente se non però a soddisfare la mia voglia personale fondamentale importantissima e sacrosanta e ad abbattere per me e anche per tanti la paura di fotografare degli sconosciuti quindi continuiamo a fare le foto di strada e usiamole anche come trampolino di lancio come possibilità come scuola e come esperimento vi vorrei fare un piccolissimo riepilogo prima di salutarci ricordarvi che abbiamo parlato di mi sposto un poco di Jordan Verdi e delle sue Humanity Showers di Mary Ellen Mark di Robert Frank di Tano D'Amico e di Vivian Meyer vi ricordo anche che potete trovare tutti quanti i miei filmati le mie chiacchierate sul mio sito robertocarlone.it e se andate sul blog trovate tutto quanto pubblicato direttamente in casa mia e quindi non ci perdiamo assolutamente oppure sul canale YouTube vi ricordo iscrivetevi che così la comunità cresce sappiamo tutti essere più facilmente in contatto e magari chissà che non venga fuori qualche cosa di interessante perché a me piace tantissimo sperimentare vi ricordo che ho fatto anche uno spettacolo su Vivian Meyer e ho fatto anche fotografie d'appartamento un altro viaggio all'interno di casa mia di me stesso e delle mie fotografie in maniera molto molto nuova e sperimentale che è un nuovo modo di raccontare va bene vi ringrazio ancora tantissimo vi saluto e vi do appuntamento per la prossima volta rimetto il cartello e vi saluto e vi ringrazio ancora